Raga, sta canzone è del 2012, di cosa stiamo parlando? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, siamo C'è Andrea e oggi siamo ragazzi con un video su Rocket League Sto registrando con la GoPro Hero, praticamente l'ho messa in una posizione assurda Cioè praticamente ho preso lo scatolo, l'ho appoggiato al monitor e sto registrando un po' l'HB se stessi chiesto, ok? Non so come mi vedo perchè ho l'app, la GoPro app Comunque, siamo su Rocket League perchè? Lasciando stare la canzone Disconnected, quella di Favij, 2012 Nel 2021 l'ho messa, vabbè dettaglio Non so se ho messo la Superview perchè è ampio, per dire tipo, si vedono tutti domani credo Allora, oggi cosa faremo? Non faremo partite, anche se vorrei fare qualche partita Oggi vi farò vedere qualche replay Allora, perchè nel titolo ho messo quella volta che feci, può andare 24 gol, ora vedo Allora, tutti i miei replay già sono tanti E cavolo che scarso, buono Ci ho messo anche tipo le parentesi tipo video La partita del secolo, 28 gol a 1 Cosa è successo? Volevo fare una 1v1 tranquilla Guardate, tutti i miei gol Ora, mi metto la visuale su di me Volevo cominciare una partita normalissima E infatti cerco di andare in difesa Così resta fermo FK E li faccio più un gol Vedete che se è il motto? Come funziona la FK Rocket? Normalmente in modalità casuale In competitiva non credo Ti cliccano dal server Se tu stai fermo, inattivo, per un totte di minuti Forse tipo tre minuti E entrare nel menu principale Almeno mettono i bot Funziona sta cosa anche se tipo Tieni la levetta con l'elastico Praticamente metti un elastico qua E lascia le levette così E lo stesso ti cliccano Se non riceve input diversi Invece lui, non so perché Non lo cliccava Io cercavo di capire Ma questo è fermo Non lo clicca più Da 4v4 Metto un botte Invece se uno è inattivo N1v1 Vingo forfait Tipo connessione persa Praticamente io faccio il babbo qua Faccio un gol così al mosso Vabbè andiamo avanti E faccio 2 3 Un altro gol 4 Ho cercato di fare tipo un salto Mi pare Vabbè una cosa già 5 Cioè Tu è fermo raga Forse mi voleva fare vinger Stava facendo anche lui una challenge su YouTube Tipo Quanti gol riesci a farmi al mio avversario Raga 28 gol l'ho fatto Ora vado avanti Ma che cosa ho combinato Te la chiedo da sutta eh Vabbè E' fermo Vedi che muove le ruote Tieni le ruote a sinistra Non me lo fa apposta Quindi andavo sui gol 3 gol 13 14 Lo aspetti Bellissimi 15 Vabbè altri gol Semplici Più semplici di questo Qua l'ho spintonato Si può fare tipo bigliardo mi pare che ha fatto il gol Comunque siamo a 20 gol Oh no Vabbè magari un caglio Questa bigliardo Che tu fai fare il gol al Versace Bellissimo Niente il 26esimo gol Ma che dove non si sedia? Forse l'assautore lo si è fregato O c'è tipo un software dopo un tot di minuti tipo prima che lo chicca Molto intorno alle vette Non lo so Goal Ecco perché è finita 28 a 1 Perché avevo fatto l'autogol Oddio Che sto facendo E gli ha contato come è parata questa Praticamente in casa se il diafo fosse qui Qui c'ho babbo E' riuscito Non so che problemi ha quello Però mi ha fatto fare 28 gol Questa partita l'ho fatta il 17 febbraio Mancomorio da Dopo che ho finito questa partita Ne ho trovato un altro FK Cioè da serata era QS Non era la serata Da serata era tutto FK Quale era la serata dell'FK Vabbè magari un caglio Ah perché lo volevo bombare Goal in retromarcia Cioè vabbè Ecco l'ho uscito Perfetto Cioè raga non lo so Io non mi posso spiegare queste cose Ci sono altri replay Umanacomio nel rugby Che partita sensazionale Ha un grasto Ne porterò altri sicuramente Comunque finisco qui Rocket io ci gioco ogni sera Praticamente ci faccio i fosse Anche tipo se torno tardi Tipo a luna di notte Quando esco con gli amici Ciao amici se mi ascoltate Noi ci vediamo a un prossimo video raga Lasciate un like Iscriviti Iscriviti Vediamo se Staggo Pro ha registrato bene Meglio di questa Ora vado a fare una partita a Rocket Noi ci vediamo a un prossimo video E ciao ragazzi Ciao Ciao